mercato americano è chiuso da dieci minuti cosa è successo ecco la volatilità è arrivata questo è il rendimento del decennale americano grafico tre minuti per farvi vedere cosa è successo dopo che ha cominciato a parlare Powell il motivo è che ha lasciato intendere che il questo rialzo dei tassi potrebbe forse fermarsi nel momento in cui l'inflazione dovesse tornare a zero siccome tutti quanti prevedono che questa inflazione a un certo punto dell'anno crollerà e tornerà verso il 2 per cento e quindi ha dato il via al movimento impulsivo verso il basso dei rendimenti di tutte le scadenze quindi nonostante oggi siano stati alzati i tassi di 25 basis point comunque questo è il rendimento decennale ma tutte le scadenze sono venute giù impulsone verso il basso con volumi che è andato a rompere per quello che riguarda il dollar index il supporto a 101 e 5 perché chiaramente il calo dei rendimenti fa scendere il dollar index ha mandato in alto l'euro per contro che si avvicina al target di 1 e 11 dopo lo vedremo al sul grafico daily e questo e il resto sono state tutte conseguenze a catena perché l'oro che è molto sensibile al cambio del dollaro alla forza del dollaro se il dollaro si indebolisce l'oro sale infatti è salito quasi pari del pari alla discesa del dollar index più 1 e 20 stessa cosa per l'argento e stessa cosa per il rame che in questo modo ha compensato una giornata che stava venendo giù abbastanza pesantemente a un certo punto registravamo anche un meno 2 meno 2 virgola 5 sul rame quindi diciamo la salita grazie al calo del dollaro verso 4 18 ha salvato un po la baracca non è riuscito a salvare più di tanto il petrolio che perdeva oltre il 3 per cento e finisce con meno 2 6 quindi anche questo volendo è un indice di debolezza vi ricordo stiamo guardando il grafico tre minuti proprio per farvi vedere cosa è successo dopo la riunione della fed quindi la volatilità si è manifestata e il mercato è super euforico perché ha letto bene letto bene ha letto in chiave positiva tutto quello che è avvenuto e quindi fiera in grid index 74 stiamo quasi entrando 73 vedete che viene aggiornato in tempo reale quindi mentre parliamo è stato aggiornato e quindi siamo in fase di grande euforia il ribasso dei rendimenti viene letto positivamente per le duration più lunghe cosa significa che i titoli tecnologici sono particolarmente favoriti dal ribasso dei tassi quindi qua i mercati stanno continuando a ragionare in ottica pre 2022 cioè tassi in ribasso a prescindere dal motivo a prescindere se c'è recessione a prescindere da quello che fa l'economia se i tassi vengono giù il mercato va su e chi va su di più il nasdaq più 2 per cento andiamo a vedere il 3q eccolo qua quindi come vedete è stato tutta una reazione a catena chiaramente poi molto in parte questo è guidato da algoritmi trading computerizzato perché è è tutto avviene tutto in modo sincronico lo s p 500 che ovviamente a buona parte dei tecnologici dentro ha avuto anche esso un più 1 per cento mentre il nasdaq finisce a più 2 14 e chiaramente chi rimane un po più sulle sue il dow jones che ha fatto sì registrare anche lui l'impennata accodandosi agli altri però partiva da livelli più bassi perché almeno per quello che riguarda i titoli del dow jones qualche punto interrogativo di cosa vorrà dire se veramente la federa reserva a metà anno come stanno prevedendo adesso i mercati come stanno scommettendo i mercati con i rendimenti che prevedono appunto che la fed debba addirittura dopo aver alzato ancora i tassi almeno un'altra volta poi cominciare subito dopo a tagliarli ok quindi siamo adesso in questa fase di estrema confusione perché è ovvio che se tu pensi che a metà anno la fed per qualche motivo debba iniziare a tagliare i tassi quando il taglio dei tassi avviene generalmente quando ci sono dei problemi ok cioè in questo momento siamo in questa fase schizofrenica cioè i mercati azionari stanno scontando uno scenario positivo no allora torniamo sulla grande sul grafico daily questo è il dow jones il dow jones ha già superato la media 200 qui siamo ancora piatti e non è successo niente sta e sta avendo difficoltà a salire però diciamo già da dicembre no quando si è cominciato a sudorare questo questo più o meno il fatto che l'inflazione venisse giù e che quindi la fed potrà abbassare i tassi o recedere dai suoi dai suoi intenti di restrizione di politica monetaria e quindi il dow jones è stato il primo a venire su adesso siamo in fase rialzista per l'S&P 500 che ha rotto le resistenze della media 200 oggi 410 il famoso 410 che era il target raggiunto abbiamo chiuso qua adesso vediamo i prezzi del post 411 quindi leggerissimo rialzo rispetto alla chiusura perché poi c'è la pubblicazione delle delle trimestrali che viene dopo le 22 quindi i mercati continuano a oscillare a quei livelli quindi comunque qui stiamo breccando verso l'alto mancano i volumi però per il momento stiamo breccando l'altro che sta andando su è Russell Russell ha rotto un triplo massimo Russell questa è la street economy vero che c'è la grande resistenza qua a 200 però questo qui sta dicendo tutto a posto qua fra un po' inizia il bull market allora e sta qua la schizofrenia cioè tu qui mi stai dicendo inizia il bull market quindi le borse andranno bene l'economia andranno bene e dall'altra parte guardando i rendimenti mi stai dicendo col calo dei rendimenti noi guardiamo il decennale ma potremmo vedere tutte le altre scadenze oggi hanno fatto tutti la stessa cosa mi stai dicendo che la fed taglierà i tassi ma quando è che la fed taglia i tassi la fed taglia i tassi quando le cose cominciano a andare male perché se le cose vanno bene che motivo ha di tagliare i tassi non so se riesco a essere chiaro cioè lei si tiene tutto il margine che può no in termini di tassi di interesse cioè se l'economia va bene con i tassi a 5 perché deve tagliare non so se mi seguite quindi ecco qua e questa è la fase schizofrenica cioè qui qualcuno alla fine non ci ha capito niente o non ci hanno capito niente i bond o non ci ha capito niente la borsa ok quindi questa sfida la fed va avanti per il momento questo è il grafico daily del decennale che abbiamo visto prima sul 3 minuti oggi si traduce con un una candela nera nuovamente di espansione verso il basso nuovamente ad andare a rompere 3 5 che ormai diverse volte che sta tentando questo lo sta sgretolando piano piano quindi rimane valido il canale di regressione a questo punto aumentano le probabilità che si vada a vedere livelli più bassi verso area 3 3 3 2 no il dollar index ieri abbiamo parlato dei tre soldati oggi tre soldati sono stati sbaragliati anche rima con questo candelone nero vediamo la conferma domani perché siamo proprio lì su 101 e 5 certamente le reazioni a caldo chi segue se lo ricorderà no quante volte abbiamo visto le reazioni a caldo della dopo la riunione della fed nel giro di un giorno il mercato si gira e si ribalta però per il momento è così quindi nonostante qui si stesse formando ecco vedete quando vi dico sempre le cose probabilistiche non prendere mai nulla per certo qui avevamo il supporto importante avevamo il minimo arrotondato avevamo i primi segnali bullish eccetera sul candel stick eccetera eccetera e oggi rottura perché poi ci può essere l'evento no non è che tutto è scritto nel grafico il grafico si predispone a un certo tipo di andamento però poi se le cose sul campo vanno in un modo diverso i prezzi si adeguano ok quindi è importante anche vedere qui qui oggi in teoria e 101 e 5 è stato rotto poi come sempre le confelle questo tipo di rotture soprattutto di questa importanza vanno confermate e vediamo l'euro dollaro perché ne avevamo parlato proprio per il target a 1 e 11 è stessa cosa si è una candela di espansione verso l'alto avevamo detto che aveva riguadagnato il trading range il vecchio trading range del marzo 2022 la parte alta era 1 e 11 l'euro dollaro si è mosso nell'ultimo anno praticamente sempre in questi trading range che va man mano a formare e poi a riguadagnare a ripercorrere e potrebbe potrebbe essere anche questo il caso quindi vediamo come finirà la settimana tra l'altro domani ci abbiamo la bce quindi la bce domani potrebbe mettere il carico da sopra se dovesse persuadere i mercati che invece sta restringendo le condizioni finanziarie e quindi potrebbe dare una mano a questa fiammata dell'euro nei confronti del dollaro da dove lo vediamo lo vediamo dal rendimento del decennale tedesco che invece vedete è rimasto là non è venuto giù non è venuto giù perché domani chiaramente c'è la bce e quindi qua c'è la possibilità che invece questi rendimenti possono ancora ad andare a rivedere area 2 e 5 quindi la nostra situazione è leggermente diversa quindi bisogna aspettare domani la bce cosa intende fare soprattutto non tanto con la questione dei tassi quanto con tutti gli altri dispositivi di politica monetaria dal teltro al quantitative tightening cosa intendono fare domani dovrebbero esserci delle dichiarazioni abbastanza articolate da parte della lagarda al di là dei tassi di interesse la situazione di euforia ovviamente schiaccia in basso il vix 17 86 e anche qui siamo alle soglie di una rottura molto importante di quest'area 18 che potrebbe come avevamo detto tempo fa aprire un trading range diverso perché se lo scenario è quello che va tutto bene l'economia va benissimo tanto la fed taglierà i tassi senza chiedersi perché taglierà i tassi dovrebbe tagliare i tassi e quindi però se per il momento è così questo andrà a cercare un supporto più in basso aspettiamo un attimo siamo proprio siamo in questo momento anche in questa in questo caso sui supporti intanto l'avevamo visto prima sul tre minuti continua a rollare verso il basso il petrolio come vedete non ha beneficiato della caduta del dollaro perché comunque anche il petrolio espresso in dollari e quindi anche il petrolio risente della debolezza del dollaro quindi avrebbe dovuto appena appena quest'ombra diciamo è stata grazie agli eventi di oggi però si conferma questa figura di massimo arrotondato con inversione del quadro tecnico sopra 83 il gas naturale neanche a dirlo piombo senza fine un altro meno 7 per cento qui ne abbiamo già parlato ovviamente giocano anche fattori stagionali e quindi in questo momento il prezzo spot perché noi guardiamo il prezzo spot è in discesa rapida velocissima il dax e ovviamente domani ci sarà la bce nel dopo questo è chiaramente noi guardiamo l'indice che è chiuso le 17 e 30 prima che avvenisse tutto l'ambaradan e nel 15 180 il future credo sia arrivato fino a 15 e 3 chiaramente è andato in coda ai future americani però comunque domani è un domani è un altro giorno per il dax lo vedremo lo esamineremo poi domani a valle di quello che sarà la riunione della bce diamo un'occhiata ai fang giusto per avere conferma che appunto il in questo momento prevalgono i titoli più speculativi tesla più 4 e 7 mentre abbiamo apple più 0 8 molto più calma 145 e apple darà deve dare eccolo qua gli earnings proprio domani mentre oggi nel dopo borsa li ha dati se non sbaglio meta vediamo un attimo se qui il sistema meta che nel post segna 180 da 150 quindi sembrerebbe un più 30 dollari da capire che cosa annunciato lo vedremo poi meglio domani gli altri sono più stazionari microsoft 253 sulla chiusura di 252 apple come vi dicevo è rimasta 145 e amazon 107 quindi qualche notizia positiva da facebook dopo comunque una discesa importantissima vedremo domani se questi prezzi del dopo borsa verranno confermati facebook diciamo è stato uno dei titoli che sicuramente è stato decimato diciamo dalla fase del dalla fase di storno se storno si può chiamare quello del 2022 meno 76 per cento quindi veniamo da 380 per cui ecco un rimbalzo un po più ampio ci può stare dopo il pessimismo che ha caratterizzato questo titolo e questi mega gap ecco questo quello degli earning il primo gap shock ribassista degli inizi 2022 a cui poi è seguito la fase di debolezza e un altro gap al ribasso sempre per gli earning di ottobre quindi una piccola rivincita per facebook piccola poi neanche tanto perché insomma guadagnare quasi il 20 per cento se questi prezzi sono corretti quindi riaprire adesso un gap verso l'alto è una può essere una buona notizia per il titolo ecco poi per il resto anche qui le nvidia che un altro titolo molto volatile e speculativo con questo più 7 per cento di oggi si porta eccolo qua il vecchio supporto a 210 ci siamo arrivati quindi un test molto importante anche per questo titolo uno dei titoli più in vista del nasdaq arc il famoso fondo che prendiamo sempre come riferimento per appunto proprio perché contiene al suo interno un etf con tanti titoli speculativi che non fanno utili ne abbiamo parlato nel video di ieri più 4 per cento quindi fiera in grid index chiude a 73 non mi resta che augurarvi buona serata domani vedremo il resto sospendiamo un attimo le richieste perché in questo momento il mercato cioè vediamo un attimo di capire bene come il mercato prenderà questo gli eventi di questi due giorni poi torneremo un attimo a vedere cosa succede sui singoli titoli comunque continuate a commentare continuate a lasciare le vostre richieste che io poi man mano le diciamo le accumulo e poi le guarderemo assieme sui grafici grazie a tutti per l'attenzione e buona serata a tutti appuntamento domani